siamo in consegna car tablet dedicato bmw x3 ricordiamo che al posto di questo monito in origine avevamo solo un porto oggetti adesso abbiamo inserito questo fantastico car tablet android 11 8 gb di ram rom 256 gb apple carplay android auto ricordiamo che tutti i nostri prodotti sono disponibili verso il nostro shop abbiamo inserito anche il joystick che vedete qui e quindi potremo usare sia tramite joystick oppure andiamo direttamente in touch stiamo parlando della nuova linea car tablet audiolite by bmw gestione audio e video tramite le usb recupero comandi al volante qui abbiamo vari effetti grafici possiamo impostare deserto sport o ghiaccio sono tutte le personalizzazioni che eseguirà il cliente abbiamo anche la dashboard gestione audio e video tramite le usb possiamo andare anche a schermo intero questo l'abbiamo visto gestione tempo dopodiché entriamo nel mondo delle applicazioni qui ci chiede di inserire l'account lo metteremo quando verrà il cliente dsp e poi possiamo eseguire anche lo split screen abbiamo eseguito anche la retrocamera quindi per tutti i bmw che hanno solo un portoggetti possiamo inserire questo prodotto che trovate disponibile verso il nostro shop per tornare in android è semplicissimo togliamo la telecamera andiamo in modalità parcheggio in automatico ci riporta in android